sbomba ragazzi bentornati in questo video di simone il game oggi siamo tornati qui in un nuovo video io sto caricando questo video martedì e non so se riuscirò a caricare questo video martedì perché non ho portato video e se non riuscirò a caricare questo video martedì cioè oggi caricherò due video domani cioè mercoledì questo è o royal cleanse o clash royale credo più clash royale perché non lo porto da lentissimo tempo niente ragazzi oggi siamo tornati un nuovo video di headfinger o fidget spinner sono andata in cita lunedì e ho comprato un fidget spinner è rosa perché l'ho comprato in un altro colore ma era l'unico che si illuminava al buio ora vi farò vedere come si illumina aspettate spengo un attimo la luce ragazzi non si vede scusate ragazzi ma se spengo la luce non si vede niente quindi riproverò a spegnere la luce scusate ho provato ragazzi ora magari ve lo faccio vedere lo faccio vedere anche a buio non so se vedete dopo vedrò il video e vedrò se al buio si vede ma comunque aspettate ora ve lo faccio vedere ragazzi ragazzi comunque se non lo vedete in pratica diventa giallofluo e anche se gira resta così giallofluo e ora non so se caricare il video come vi ho detto prima martedì perché ora vado a vedere la partita del benevento infatti già ho la maglia non del benevento ma della mia squadra di calcio però sta scritto anche benevento e ora vado a vedere la partita quindi torno tardi non so non so se riuscirò a caricarlo martedì niente ragazzi come vi ho detto diventa fluo non so se non so se lo vedete e non so come fare aspettate ora provo un altro mezzo niente ragazzi l'ho provato ma non si vede e non so se l'avete visto quando prima ho spento tutto e l'ho fatto girare niente comunque vi ho detto che diventa fluo e niente ragazzi questo video è è stato molto piccolo solo per far vedere il mio nuovo spinner che si illumina più niente ragazzi ci vediamo al prossimo video e beee beee l'ho l'ho Grazie a tutti